Ben trovati a tutti e buon sabato del convento. Insieme anche questo pomeriggio allora vado a salutare subito i nostri ospiti che sono componenti di una delle nostre realtà, le realtà legate al convento a Padre Pio, una realtà bella e giovane, è il servizio liturgico Francesco Buenza. Vado a salutare subito alcuni dei componenti che sono venuti a trovarci oggi pomeriggio. Saluto Alessio Crisetti, presidente e neopresidente, buon pomeriggio Alessio, benvenuto. Francesco Melchionda, vicepresidente ma è stato presidente per tanti anni, benvenuto Francesco. Grazie, buonasera. E' uno dei giovanissimi componenti, Antonio Ritrovato. Ciao Antonio e buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio. Allora ragazzi parliamo oggi appunto di questa realtà bella e giovane che è il servizio liturgico Francesco Buenza e partiamo subito da una domanda d'obbligo. Quando e perché nasce questa realtà nel convento di Padre Pio? Beh, il servizio liturgico nasce nel 1996, ormai tanti anni fa. E' una realtà che ha avuto nella sua storia diversi ricambi generazionali. Noi siamo l'ultima generazione di questo gruppo. Furono 12 ragazzi che in quel 14 settembre, all'inizio della novena di San Pio, di Padre Pio allora, cominciarono a servire all'altare del santuario. E da lì poi se ne sono aggiunti altri, tanti ragazzi di questi sono sposati, alcuni sono diventati anche dei religiosi. Ed è diventata una realtà davvero molto importante, non solo per il servizio all'altare che noi svolgiamo, ma anche per tutto il santuario stesso. Allora adesso noi abbiamo anche delle foto che poi appunto vedremo insieme, che vi... foto appunto del passato, ma anche del presente, di quello che fate ecco quasi quotidianamente oserei dire. Grazie alla regia appunto vedremo questi scatti. Quindi quello che fate è il servizio all'altare. Quindi i cosiddetti, posso utilizzare questo termine, i chierichetti di una volta? Ecco sì, ecco stiamo vedendo appunto un po' di foto di quello appunto che fate e anche di questi momenti come dire extra servizio all'altare. Ragazzi con voi oggi vorrei approfittare anche per ricordare appunto il servizio liturgico Francesco Buenza, intitolato a Francesco Buenza. Ricordiamo chi era questo giovane? Sì, Francesco Buenza era un ministrante proprio come noi. Ha iniziato il cammino nel servizio liturgico proprio quando è stato fondato il servizio e purtroppo pochi mesi dopo è salito in cielo. Ma noi lo ricordiamo sempre nelle preghiere, nell'amore fraterno che volevamo soprattutto i più grandi un po' come me che lo hanno conosciuto e sanno bene quanto era genuino un ragazzo veramente splendido e quindi noi siamo sicuri che veglia sempre su di noi. E' il vostro angelo custone. Noi stiamo vedendo alcune foto storiche, ecco questa ad esempio è Francesco Buenza che appunto oltre a essere per stare il servizio all'altare all'epoca faceva anche parte del gruppo dei giovani che facevano servizio d'ordine. Qui lo vediamo insieme al fratello Davide e oggi ragazzi è il 12 novembre quindi sono trascorsi 25 anni da quando appunto Francesco ci ha lasciati in un brutto incidente stradale. Altre foto molto belle appunto anche di quegli anni, questo probabilmente è gli anni 90, le foto sono un po' sgranate perché come dire sono tratte dal cartaceo però in qualche modo riconosciamo anche dei volti a noi come dire molto molto noti. Ecco vediamo Francesco appunto nelle prime uscite del servizio liturgico che all'epoca non si chiamava neanche così immagino ragazzi, è stato ufficializzato dopo e quindi si è pensato poi dopo qualche mese appunto dalla sua salita al cielo di intitolarlo a lui, è molto bello questo gesto ragazzi. Allora quindi i vostri compiti sono l'animazione delle liturgie ma non solo insomma che cosa c'è anche della formazione che ruota intorno al servizio liturgico giusto? Sì poi Antonio magari ci spiegherà meglio, lui è uno dei membri più giovani che abbiamo, non è più giovane ma uno dei membri più giovani, noi prepariamo le celebrazioni del santuario in coordinazione con i frati, siamo i loro collaboratori più fidati in questo momento ma non solo, i frati ci aiutano anche nella nostra vita formativa e spirituale quindi ci segue Fra Pasquale Cianci, il nostro padre assistente attuale, con lui svolgiamo dei momenti di formazione ma anche dei momenti di ritiro, abbiamo visitato più volte tutti i conventi dove è stato padre Pio ad esempio, questo durante dei ritiri, dei momenti di ritiro che noi ci riserviamo durante l'avvento, durante la quaresima, facciamo un campo scuola durante l'estate, lo abbiamo fatto in Salento lo scorso estate, ci riserviamo tutti questi momenti per crescere spiritualmente e poi con gioia servire all'altare di un santuario è molto importante ed è una responsabilità che noi sentiamo molto sulle nostre spalle. Quindi è bello quello che dice Alessio, quindi per crescere non solo appunto come ministranti ma anche come gruppo, come amici e umanamente anche perché siete giovani sì ma potrei dire anche alcuni di voi giovani adulti. Allora Antonio tu sei un giovane componente del servizio liturgico, da quanti anni fai parte di questo bel gruppo? Oramai da otto anni. Da 2014 circa? Sei orgoglioso di far parte del servizio liturgico? Sì molto perché ci sta molta sintonia magari, molto legame con i ragazzi. Sì sì, specialmente anche con Fra Pasquale. Noi in settimana oltre che la domenica diciamo ci riuniamo facendo molta fraternità, diciamo siamo un gruppo molto unito. Ecco e la fraternità ragazzi è alla base di qualsiasi gruppo. Mi spiegate un po' come, che tappe ci sono da seguire? Se appunto i ragazzi quando entrano devono seguire un periodo di formazione per poi appunto fare la cosiddetta promessa? Quindi spiegatemi un po' Alessio, Francesco, uno dei due. Sì, quando si entra nel servizio liturgico c'è un periodo di formazione che è fatto dal padre assistente ma anche da un membro più anziano del gruppo e questi momenti di formazione servono un po' a far capire cosa significa servire all'altare, cosa significa servire all'altare in santuario, nel santuario di San Pio, tutti i momenti che noi durante l'anno serviamo, il significato di tutti questi momenti ed è molto importante che questa formazione venga fatta. Successivamente dopo questo periodo di formazione c'è una bella celebrazione che da qualche anno facciamo l'8 dicembre, comunque durante delle domeniche, durante delle messe anche che vanno in televisione e facciamo questo bel momento della promessa nel quale abbiamo aggiunto negli ultimi anni anche proprio l'atto della vestizione. È il padre assistente che dà la tunica al neopromesso e lo veste, è un momento molto 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 bello. Allora, chi può entrare a far parte del servizio liturgico? Se magari qualche giovane per caso sta a casa della nonna, vede queste interviste, diceva voglio entrare a far parte anche io del servizio liturgico. Le porte sono aperte a tutti i giovani che vogliono intraprendere questo cammino, anche chi è iniziato a servire in parrocchia, non è detto che deve lasciare la parrocchia per venire nella nostra realtà, può comunque continuare a servire nella parrocchia e affacciarsi nel santuario. E poi a seconda della sua presenza durante l'anno, che è un periodo di noviziato all'inizio, valutiamo se il giovane è presente e quindi può entrare ufficialmente nel gruppo. Che è bello. Porte aperte. Porte aperte. Ma ricordiamo che avete anche una pagina Facebook, Servizio Liturgico Francesco Buenza, quindi vi possono contattare anche sui social. Una domanda al volo, uno dei momenti più belli che avete vissuto insieme? Allora, beh, per noi due è stato sicuramente quello di aver servito proprio Francesco, sicuramente. È stato un momento emozionante. Dico per noi due, perché c'erano anche gli altri membri, noi abbiamo avuto la fortuna di poter stare ancora più vicino al Papa, di poter collaborare con i cerimonieri del Vaticano, nella preparazione della celebrazione. Ed è stato tanto una giornata, è stato tanto un momento, l'abbiamo salutato, siamo stati a fianco a lui, però è stata una giornata veramente per noi ancora di più carica di emozioni. Un bel premio per tutto il nostro lavoro di questi anni. Esatto, perché comunque non è facile fare quello che fate e lo fate davvero con grande entusiasmo. Anche per te immagino che la risposta sia uguale a aver servito Papa Francesco all'altare. Che poi ogni celebrazione ha un suo perché, un suo valore, lo direi così, perché il nostro che è un compito è proprio una missione, il servire all'altare. E dare l'esempio sia a chi ci segue tramite social, tramite Padre Pio TV, ma anche a chi incontriamo tutti i giorni nelle nostre vite. Dare l'esempio è la nostra missione, la chiamo così. Grazie, continuate su questa strada. Noi vi seguiremo e vi seguiamo anche su Padre Pio TV, quindi davvero grazie ai giovani, alcuni giovani del servizio liturgico Francesco Buenza che oggi sono venuti a trovarci nei nostri studi. Grazie e buon cammino. Grazie a voi, grazie. Io restituisco la linea alla regia, ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi torneremo insieme con il nostro sabato del convento.